Oggi leggiamo Daniela Pirata di Susanna Isern e Gomez. In un mare molto lontano navigava il Caimano Nero, la barca pirata più temibile di tutti i tempi. Tutte le imbarcazioni sceglievano rotte più lontane per passargli alla larga e se per caso un marinaio lo avvistava col suo cannocchiale, faceva dietro front e scappava in direzione opposta. Il capitano del Caimano Nero si chiamava Orecchio Mozzato. Lui e la sua ciurma erano famosi per le loro avventure da brivido. In quel mare così lontano navigava anche Daniela, a bordo dell'aracnide Salterino, il suo piccolo veliero. Nonostante le orribili leggende che si raccontavano, lei cercava proprio quella nave terrificante C'era qualcosa che desiderava con tutta se stessa. Daniela voleva essere una pirata del Caimano Nero. Un giorno, dopo molti soli e molte lune, passati a cercarlo, lo trovò. Il mio nome è Daniela e vorrei essere una pirata della vostra nave. Ragazzina, dici di voler entrare a far parte della nostra ciurma? Chiese Orecchio Mozzato sorpreso. Proprio così, rispose Daniela con fermezza. I pirati scoppiarono a ridere. Il capitano si riunì con i suoi uomini. Dopo alcuni minuti di discussione, Orecchio Mozzato sentenziò. Per diventare una pirata del Caimano Nero bisogna superare una serie di prove. Quali? Farò tutto quello che c'è da fare, disse Daniela tutta convinta. La prima prova per diventare pirata è catturare pesci a mani nude. Ragazzina, tu sai pescare? Daniela si intuffò di testa nel mare. Quando riemerse, i pirati la guardarono bocca aperta. Vi ho portato alcuni chili di orate, gamberi, tre calamari giganti e una manta. Non male, riconobbe Orecchio Mozzato. La seconda prova per diventare pirata è dimostrare di essere forti come una quercia. Ragazzina, tu sei forte? Daniela si caricò sulla schiena al forziere del tesoro e cominciò a flettere le gambe. I pirati la osservavano stupefatti. Uno, due, dieci squat, venti, cinquanta, cento squat. Basta! La terza prova per diventare pirata è correre alla velocità della luce. Ragazzina, tu sei veloce? Daniela corse come un fulmine per la coperta. Dopo pochi secondi si fermò nuovamente di fronte ai pirati sballorditi. Guardate, la benda del guercio, una piuma del pappagallo e una moneta d'oro. Ve li ho sottratti così velocemente che non ve ne siete neanche accorti. Ridammi la mia moneta, disse Orecchio Mozzato infastidito. La quarta prova per diventare pirata è essere furtivi come serpenti. Ragazzina, tu sei silenziosa? Daniela salpò col suo veliero. Il mattino seguente comparve sorridente con un ciuffo di peli tra le dita. I pirati si strofinarono gli occhi increduli. Una ciocca dell'orribile orso in letargo nella sua grotta. Glielo tagliata senza svegliarlo. Fammi vedere, disse Orecchio Mozzato attonito, mentre esaminava la ciocca. La quinta prova per diventare pirata è dimostrare di non aver paura di niente. Ragazzina, tu sei coraggiosa? Daniela si buttò nella fossa dei coccodrilli. Paralizzati dalla sua audacia, i rettili non si mossero. I pirati cominciarono a guardarla con ammirazione. La chiave arrugginita che era in fondo alla fossa. Scommetto che era lì da mesi, forse anni, ad aspettare che qualcuno di coraggioso la recuperasse. Dammi la chiave! Il capitano sempre più disperato gliela tolse dalle mani. La sesta prova per diventare pirata è preparare una buona zuppa. Ragazzina, tu sai cucinare? Daniela raccolse gli ingredienti più saporiti. Ragnatela, sputo di rana, lacrime di coccodrillo, cocco marcio e cucinò una zuppa succulenta. La zuppa più disgustosa che abbiate mai provato? Bleh, meravigliosamente ripugnante, si leccò i baffi a orecchio mozzato. Ma la prova più importante per essere pirati è trovare tesori perduti. Ragazzina, tu sai leggere questa mappa? Daniela studiò la mappa dell'isola del tesoro, che i pirati cercavano da mesi, e salpò a bordo dell'arachnide salterino. Due giorni dopo tornò con il bottino. Era un enorme scrigno pieno di gioielli preziosi e monete d'oro. I pirati non potevano credere ai loro occhi. Erano così contenti che si misero Daniela in spalla mentre la acclamavano. Daniela, Daniela, Daniela! Bisogna riconoscere che hai superato tutte le prove, mormorò il capitano. Ma no, non puoi entrare a far parte della nostra ciurma. Come? Perché? So pescare a mani nude, sono forte come una quercia, più veloce della luce, furtiva come un serpente, coraggiosa, cucino malissimo e riesco a trovare tesori perduti. Ho tutti i requisiti necessari. È molto semplice, disse orecchio mozzato. Non puoi diventare pirata perché sei una femmina e su questa nave sono ammessi solo maschi. È una regola del camano nero. Davanti a quella assurdità, Daniela non disse una parola. Se non fosse per il fatto che non piangeva facilmente, sarebbe scoppiato in lacrime. Allora i pirati si riunirono, ma lasciarono in un dispatto orecchio mozzato, che non poteva credere a quanto stesse succedendo. Dopo vari minuti di discussione, un portavoce sentenziò. Daniela ha dimostrato di avere tutti i requisiti necessari per essere un pirata del camano nero. Vogliamo che rimanga sulla nave. Sì, rimane, gridarono tutti. Daniela cominciò a fare salti di gioia, mentre abbracciava tutti i pirati. Daniela, Daniela, Daniela! Orecchio mozzato, invece, era diventato rosso come un peperone. Sembrava una pentola a pressione sull'orlo di un'esplosione. Come osate prendono una decisione così, senza la mia autorizzazione, razza di farabutti. Sono io il capitano, urlò. Orecchio mozzato, per essere capitano bisogna avere una serie di requisiti. Il più importante è essere giusto e rifiutare Daniela solo perché è una femmina è una vera autentica ingiustizia. Vogliamo che te ne vada. Orecchio mozzato se ne andò e nessuno seppe più nulla di lui. Il camano nero viaggiò lungo nuove rotte e fece il giro del mondo. Raccontano che le imbarcazioni sceglievano rotte più lontane per passargli alla larga e se per caso un marinaio lo avvistava con il suo cannocchiale, faceva dietro fronte e scappava in direzione opposta. Tutti sapevano che il capitano del camano nero non era più orecchio mozzato. La sua nuova capitana era una bambina, la pirata Daniela.